ma devi regalare qualcosa a me cazzo vinto io soggio mi dà fastidio che vinto due volte bene dai rimane umile cazzo social cazzo 80 va bene costa 80 e cazzo c'entra e cazzo 80 socio vinto io ma te ce l'hai il sub da paolo sì l'ho fatto ieri il trattino basso 300 morgan io no sono povera e viola regalata da scrivi morgan questo devo scrivere se il nostro capitano paolo cioè del nostro capitano grazie parlo di avermi bannato ma la bella gang va bene va bene va bene va bene ho scritto la lettera va bene va bene posso chiedere scusa perché era no no ai gas a mano era proprio importante posso giocare gianna non è vero io non so giocare calista ma la prenderò lo stesso posso giocare trash beh andiamo da faccio vedere un picchia un supporto da uomini questo qua finalmente so che hanno regalato la sav da me so che non è la stessa come se fossi regalata da paolo no no regalo di fuoco fammi controllare chi me l'ha regalata così lo ringrazio un certo sommo febio come si fa regalare il sommo febio grazie mille socio del grande regalo qualcuno come fa regalarla scegli sotto sab gift regala e ti fa selezionare uno a caso a me da solamente il ban e i time out ma te non devi farlo da lì devi farlo da dall'altro da twitch tv palo iso non dal gestione te dove stai guardando dal mod scrivi un attimo che non ti banno davvero no paolo io non ho mai giocato calista perché non è preso calista morgan perché ora vi dimostrerò che sono forte lo stesso grazie vogliamo tornare a me lo potete attaccare morgan scherzo l'ho giocato no non vogliamo tornare paolo non è quello che hai detto prima è importante comunicarlo prima ragazzi che cos'è rise top guarda che bei messaggi di tuoi soci leggo in chat come si chiama il canale di aghizi? cicci rizzi sono io socio ti chiami così da switch no? proprio così ma ma è live socio è live no? no stasera no socio stasera sei tutto per voi fai compagnia ai miei soci ma siamo tutti qua ma live il calore che conta le pubblicità non le mettiamo e le sub non ci servono il calore dei soci è l'unica che il socio sa già tutto Mi onori a dire così, socio, mi onori Che vuol dire che sai, cazzo Sono grande famiglia Già lo sai Spammiamo le pistole, cazzo Ciciri zileng 0,1 Ciciri zileng Il miglior streamer al mondo è il socio Non mi dite così, socio, mi muto È la verità Mi muto Senza non la togliere a Paolo, direi il socio Invadiamo, Boyd? Sì, siamo alle tue puttane Ma lo certo che invadiamo Tutto, minchia, le stelle si stanno lineando Andiamo Dov'è Paolo? Occhio ragazzi Dopo 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 Io non prendo la spell fino alla fine Anche io Rispetto a prima è molto più difficile che finisca ben Sto invad Vici Ogni volta che mi sto sping e cerca una meraviglia Il mio grab è molto più lento Però magari che lo sa Mercury Boots sto game, socio Vado a No, veramente servono Sono tutti a pene, amici Purtroppo Thresh non è un gran pick Conto tutti a pene Vediamo se è qui il coglione Anzi Neanche per me Io soffrò sto game Dai che si suggerisce la raid We go home Allora che vuoi fare amico Sì Morgan Valo Sì sono Io faccio tre campi E top E poi vengo Camperò la bot Passando anche da l'elenco alla tua lanterna No? Prima di entrare nel vero gaming Vorrei farvi una domanda di voi ragazzi È possibile? Cosa hai detto? Prima di entrare nel vero gaming Quindi nella serietà Nella noia Vorrei chiedervi la vostra mossa preferita di Dragon Ball È difficile Il colpo del sole La kamehameha padre figlio Paolo? Paolo quale? Io l'impeto di Kid Bu Ok L'impeto di Kid Bu Socio vuoi darmi la tua? Ne conosco ben po' Che forse è la sfera Genkidama Socio È la tua Socio Vorrei sentire prima quella di Morgan La kamehameha padre figlio Bella Porca puttana La mia è il Kiko Il colpo di Tenzing su Cell Una roba un po' Non Non usare Questa è una mossa particolare Perché il tipo è scarso in tutto Ma con quella mossa Ha fatto un comeback ridicolo O no? Socio vedo vedo che hai capito Bene No flash Il Kiko Sai quanto è durato nel manga il Kiko? Secondo te dico quella roba l'Apensi Quanto l'ha tenuta Ho tenuto sei ore in quel buco il tipo Socio 15 minuti Mamma mia 15 minuti di Kiko Con lì città una roba Faccando l'Elt bar Per un bene comune Zacca anche mia Una grande mossa Magia Ma si pone ampi Ma può cantarezza a botte Ok Non ci credo Non mi è partito Ahhhh Arrivando botta Anche io Anche io Anche io voglio 300 gol di Jinx Arrivo E io vado Una scap Unlike è rimasto con un HP Un dito con la linea Sì bravo Quindi versi di me che c'è in di qua Mi sta chiudendo Dove dove arrivo Passa da di fa Passa da di fa Recollo amici No Ah me l'hai visto Mi sta tenendo male Bel lavoro Socio Oh c'è trash C'è caso lì Morgana Bot siamo molto più forti Pensavo flashasse la Q Onestamente Non la flash Pensavo Cioè Comunque Morgana Io il Black Shield Io lo sfondo Quindi non è un problema Se è Black Shield Ok Dico anche per balo Che magari può sembrare Brutta la cancata Io lo sfondi con la Q? Così lo sfondi Prima con la Q Poi gli faccio l'auto E poi gli faccio la E io comunque Mi aggancio a lei Capito? Ma io se arrivassi Dalla linea ora bot? Killabile E Zack top Unica rancabile Mi dici? Unica rancabile Ok Ma io devo dare la linea Se il gancho va bene Bene Se no O recollo Paolo Grazie della poll Ma io recollo Paolo C'è troppi soldi E visto che io l'ho levato Con un auto Poi facevo lei la morte Ma ti chiedo l'unica cortesia Di non passare tople Certo tranquillo Anche se sarei venuto Ganchabile tople Adesso Che ti puro? Vadova Se mi dici così Io ci sono Però Non hai recollato nessun dei due Io c'ho un item Possiamo rinforzare Informazioni di Zack Riusciamo a prendere di vision Tipo qui Sì vado a metterci la pink Vuoi regolare? Io romo mid Eeeh Non mi ha messo bene Sono mid Io sto arrivando top Eeeh Non farlo cagare sotto Più possibile Lo sa che ci sono Lo sa Vabbè Come fa a saperlo? C'è è wardato Sicuro? No Sa di nuovo Sì sì Vabbè Zack top Ce l'hai un altro? Sì No Eh A me è stata la mossa Eh ma gliela vuole lasciare a lui Vabbè Ti aiuta a pushare o no? Eh sì Certo Perché dobbiamo forzare il TP E lascia a te i minion Non importa Prendi anche tu Bado No Molto di forti bot Info Hai capito quanto Quanto dovresti cancare di top? Senti che belle parole Che ti dedica Vero Grazie Info Chang'le no Ehm Re Void Craps Ha fatto Cioè aveva fatto questo No aveva fatto questo Poi non so da persino Arriva il Void Vai Venga a togliergli la ward Lo vulto io subito Potevi andare Senza pensare al Zack top sempre Oh Bravo ragazzi Zack No Stai Stai al limite Hai un altro alcuno? L'ho usata L'ho usata mentre te ottavi Non ti due Le ammazziamo questi Non ci credo Me l'hai tolto dalla Q Dani Caravuscio Se non hai messo di merda Se tu puoi dive Perché hai usato WQ? Come è possibile? Ecco che ci succede Si lo dive Lo dive Ulti? Ulti No frate Oh mamma mia Sto male Probabilmente non dovevo Ultare Non dovevo ultare Ho finito il mana Ultare Devo fare due Eh va bene Va lo ti perdono Devo pure Usavo WQ Perché comunque Era me C'erano più d'anni possibili Prima Eh no Non devo usarlo Tutto Magari non serve Non serve Sponare due volte Un vinci Non lo devo usare Cos'è me lo scattare Possiamo fare Drago ragazzi Sono morto Ok Va bene Va bene Calma 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 Se no divento pazzo Botto è molto avanti Non dovevo ultare Tattomano No Non dovevo ultare Ma Cioè Sì Dove ultare Ma Ma non moriva Comunque Come no Come no Dici Arrivo mille No Paolo sto regolando nel bash Sono malato Hai rifiutato la mia lanterna però Eh no mi servivano quei minions Allora te l'ho messo troppo presto Arrivederlo E summer mid socio? Tutto ma Dovrei prendere lo stun io Prendi tu lo stun sul mio stun Volebbe essere midling Appena cantato E no flash Era blu ma Il 2-2 lo vinciamo comunque 3 vinciamo sono enorme Jinx alla ulti app Lanterni E' il W Non male dai Mi faccio il blu e arrivo bot Voglio il drago Balo siamo davvero tanto forti Arrivo il blu e arrivo il drake Vai Duck probabilmente è bot Stanno giocando per vision Sicuramente c'è Zack qui Eh lascia un attimo Vengo anch'io bot Vengo anch'io Vengo anch'io Ho molta paura Ho un organo che sono morto Corro corro sto correndo Non ti fermare socio Non è matto se posso essere Eeeh Enni Enni Ha il flash Eh Sono morto Te la fai socio? No Dessuto no Oh Non vada ancora Ci penso io Vengo io Lanterna Ancora un ultimo Che merito Omanese grittorio Castesco Socio che ho dovuto veramente urlare Cosa morre è il filo L'Urso L'Urso è manco E' un po' per la cosa Ulti di jinxon Drago Sempre dei siti E' un nuovo Aspettiamo che torna il socio Qualc'è No 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 Ah ora Che lanterno Vedi Kalista Riesce Dove venire E lascia pure Te il casta Che zack Io ho lanterno Sento salvare a MUMU A MUMU rimane dentro Mentre chi si sta Cioè lui ci prova sicuro Via via Che è morto Ti va a salvarla No 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 Senza se mori tu Beh Mi sembrava salvare con me Ho lanterna ma non c'è Non so Comunque abbiamo questo Dove che giochiamo per Void Che arriva in mid forse Ah no ok Sono dopo Ah mi devo fare in Mercari Cazzo Beh non so Per Terza volta che arriva in lane e muoio No 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 Ah vio bot Io vado a giocare per i следi Per il Void Scrub lì Eh Beh lì comunque non abbiamo Ce l'hanno male prima Cioè il Drake lo Posso fare io E fammi tirare via con la lanterna Si Eh Void Già e di start di start non è detto che non siamo. No ma intanto faccio guarda male messa la coppia forse Ma gli lascio il giorgino lì e fancura Mamma cazzo di bestia secolare che sono dio bastardo vinciamo male Sì qualsiasi obiettivo in cui ci sono io e fai tabile sono 6 0 ti vengo subito da aiutare Se riesce a venire danni nel caso venga zack è morto rise No no zack zack non sto mettendo i ride Frega di zack lo dedo niente Guarda Morgana Faccio un piccolo recall qua guarda Zack bot Meglio Noi possiamo giocare passivi no pusciamo e ruotiamo perché anche mid Io ho ruoto poi tu segui le cose che volevo andare Renni da 0 gold se dobbiamo bot Non faccio abbiamo pusciato poco facilmente Ah c'è zack Posso prendere zack bro Zack ce ne mettono Io vado a base Andiamo a mid Comunque le da 0 a Prendiamo a torre mid Mi dica in due auto Mi dica in due auto Qui c'è zack Forse ecco qui possiamo invadere bado Eh lo so però c'è la ward qua Che c'è la ward? Io ho il teleport in caso ma Mi sembra Vengo a prendere zack Lo so c'è la ward qua Mi chiamò se è mosso Polino Polino si Possiamo andare a herald adesso Ma subito? Tu prendi Ammazzi Ammazzi jungle Chiamiamo perché Bot cade Occhio Non vorrei che forzassero E right non c'è qua eh La botca è mint Prendiamo bot Pusho Prendo più top Sì si push up E poi si avviene all'era al meglio Andavrevo trovato Bene c'è anni Bella febbi Ma perché sto tankando Vabbè Niente Vabbè Salva la dominion Nice Noi abbiamo pushato un altro Prendo più Occhio zack 50 50 vengono chi vengono chi ci pensi io lo ammazzo prima che si stiamo ricollando arrivo bravo ci dai non sarà funzionando legato a vendi morgana dovevo cresciarlo sbagliato un altro a me mi dietro prendiamo anni dietro faccio un po dip e un pazzo nel culo non ce l'ho fatto ma è bello ma è bello mi sono fatti stare dal coso di seguire se facendo di troppo di non ho giocato male io ce la facevo solo giocavo bene ok non c'è regolato niente ma potremmo farci il limite questo è un bot che cazzo fa qua ma è molto molto comprare i getti era troppo annorato esaminando pappo volevo darti una mano te lo giusto figurati ma è colpa tua anzi ho sbagliato ero 80 mille con shutdown potevo stare fk non dare stimi le gold al cristiano ma è bello non è contestabile vero gioco si si arrivo 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 non lasciamo nulla corro ma arrivo in tempo mi sa di sì solo ci si mettono un po a farlo dormito io dovevo diventare il drake ma non c'è l'era al tavolo chiamone dove quando metto 8 8 poi gli entriamo in questo è morto non può essere allo stampo vabbè siamo giocati t2 top invadiamo pure arrivo con voi c'è il blu social io invado con paul non ho capito invadiamo veniamo top veniamo da te si chi è dove si è messo il tipo per non venire stunnato continuo continuo ce l'ho eh sta arrivando rise 100% ok rise sarà qua jinx ulti è morto è morto è morto è morto è morto era al mid prendiamo lui prendiamo lui ok tu continua a giocare non è qui venti a 23 fetici per farmi colpire dalle torri beh salvavo un minion ci sta inibitor pure poi via si si può anche inibitor ciao ragazzi continuo ma continuo guarda jinx probabilmente jinx no via via arrivando rise l'antenna in 5 eh io l'ho sbagliato non l'ho visto poi a mano l'antenna hanno rise sta arrivando rise ragazzi ok ok non l'abbiamo visto un pizzo fantasma eh un pizzo un po' timido qua eh ti sento vedo che siete concentrati non vivono l'ogica verbalon vision però comunque è dovuto tirare questo pips quindi alla fine c'è un sintomo eh non so tutto resistere per domani minuto ragazzi dopo no 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 andiamo a prendere ride socio tanto io di doppio push la wave socio solo a top guarda zack oh ho stop è adugato l'acqua non è adesso stanno anche lui eh eeeh sto pushando eeeh torr torr è morto è morto cade la torre no no cioè non possiamo non possiamo regolare giocare per drake o per baron drake sei il baron quanto è veloce boh senza guardi o se cosa può oh dopo zack arrivo io ho il local sono proprio enorme beh hai salvato sbaglio bar non capisco è stato un gottiva di under me certo certo e stavo dando perché se no io andrei buona ragazzi c'ho il teleport e giochiamo per il nature cosa ne pensate datemi un feedback va bene giochiamo prima per il drake però ormai sono andato allora giochiamo per il drake si si ormai stiamo in due botte socio si ma comunque avremmo fatto bene ti lascio volentieri pips gustami un attimo socio ti sto guardando non vorrei giocare per adesso occhio perché ci manca tanta vision qui c'è morgan c'è anche zack force non vorrei giocare drago è gratis non moriamo aspettiamo facciamo il drago dai quello è top magari è free dai va bene vado ti vado top non perdiamo la tv ce la fate anche senza di me muoio ti guardo drago è andato poi puoi pusciare un'altra e poi giochiamo per si l'hai parata grazie morgan prego non hai guardato no la tiriamo a casa baron adesso occhio socio sempre zack forza con le parti morgana pure buon asher brittina asher oh deve essere buono socio con due botte non abbiamo il tp però questo è male non lo fai ma non abbiamo qualche e magari roma il tp quanto è veloce è flipata è flipata perché vuole il forte troppo che sberle che mi tiro ma lì sta flipata è stack full guarda 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 a 2000 fate render più smite io sto portato è nostro no? stop dove è morto? credevo fosse reset la cosa, l'ho fatta proprio di standard non c'è nessuno ditemelo che combattiamo combattenti vado, io ho match rides, socia giochiamo per questo adesso, boys, è questo non è meglio mid? aspettami top, socia, lo stai beccando ah no, arriva, arriva non è detto che l'ho raggiungete io dove vado, bot? o meno giochiamo per pushione mid e rotare il bot arrivo da te non c'è nessuno, siamo in due possiamo giocare su hand c'è zack ma non arriva in tempo che ammazza quella veramente non credo è 0-4 non lo ha bucato c'è anche zack, occhio ulti se la farà salvarvi se la farà salvarvi? tipo in questa situazione ragazzi siamo veramente coordinati qui è dove perdiamo più tempo in assoluto e flodo il game e ora stiamo aspettando morde non moriamo una alla volta dove andiamo? questo è la call pushare mid in tutore bot e fare i pick se lo lo vuoi quindi io vado bot e poi andate mid? si a posto il trinchettro se la usavo i power attenzione qui zack ingaggio più black team morgana non dobbiamo forzare mid zack ingaggio sempre poi eccola perfetto quindi aspettiamo che lui metta pressure in bot bot cade da solo se non si è ancora ma inibitor non lo prendiamo ovviamente prendo lo prendo lo stesso col tempo quello casca non è da forzare c'è wright qua eh chiudiamo wright e wright può morire ok questa cale occhio socio please ma perchè sempre io? stiamo tankando tantissimo regolarò regoliamo adesso giochiamo a terra drake forse era fattibile qua eh no ma il socio è morto siamo qua è per quello cioè erano in tre e io non avevo vita eravano in tre contentiamoci vabbè abbiamo preso torre abbiamo quasi inibitor porto due volte da questa amborgana soci my bad che sta vita delle q che proprio non vedo arrivare da nascosta seconda volta che muoio come un porco c'è un gran farm abbia pazienza socio io andrei top c'ho il tp up e partiamo per drake che dice tutto giusto l'unico la cosa che sbagliamo più spesso è pushare le waves senza avere un ehm si può chiudere è il trago in trenta da sola è il trago no? ok ok adesso infatti rinuncio rinuncio vabbè era per chiudere una hill prima vabbè infatti meglio drake voglio storia ha più che altro lecchia cittadino proprio tanto è abbastanza matura per giocare contro di me prendiamo questo prendiamo la vita box prendiamo priorità mid poi ce l'abbiamo la pinta a nessuno ho messo ho messo a merda zax veramente per la stilarlo c'è anche occhio aspettiamo aspettiamo l'aggro lo aggro io lo tiravo fuori qui vengo aspetta sembra buono la backframe la backframe la backframe che non ci sono occhio all'ultimo organe che fa fessuti jinx è possibile quasi jinx fatemi una mano right mamma mia che fight che ho tirato fuori ehm mid finish finisce mi sa di nuovo mi sa che è drago più inibitore meglio fa fare drago eh fate gli inibitor voi fate gli inibitor voi egli ha push fatto nella mia ult è stato proprio bello da vedere no facciamo t3 bot più reset in tupano potete allenarlo quella cosa del rend più smite quello cade forse cade pure a mid dice rend più smite potete magari tu non giocherà mai calissimo ogni inutile no non penso occhio è morto 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 credo in occhio sono giù mi salvate non giochiamo mai alla vita non giochiamo mai alla vita facciamo molto male non è death ma devo salvarti no ma io ero ma ti salvo ma schiaro sto arrivando non abbiamo una ulti io però abbiamo quelli di calzzare io mi punto dentro guarda c'è stato detto in spari bel grabo il socio sto arrivando sto arrivando in ultima 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 e io sono stato bloccato da rai ho stato bloccato da rai non ero neanche in range non potevano ma era giusto cioè non dovevamo contestare era da condividere mini a niente nomas c'è un po' bella facciano devo fare il bar facciamo facciamo non più anche però non difendere la base si è ancora un'ora non penso che possono venire per il socio Il ghost o dai, tira dritto. Questo sono un bel game ragazzi. Io vado bullo, Sog. Non troppo, se no sto baitando per me. Due bots. Noi andiamo. Aspetta, aspetta, ci stanno baitando. Occhio ragazzi. 2v4. Mi sto arrivando da me. Occhio alla ult, flash ulti di Andy. Io ho la ulti app, eh. Qualcuno antipatico che ci viene addosso lo porto con me, però devi sopravvivere. Ti sto coerando Morgan. Guarda, guarda Andy. Oh! Vado in? Verde? Ulti? Sì, mi hanno tappato. Due ulti, capiste? Eh, non ce l'ho. Ma davvero un po' di straordinario. Ah, io non so perché, io non ero lì quando sei andato in, ho fatto una merdata, ma potrestavo aspettarmi. E non ce l'avevo la ulti. Minchia, raga, ma come cazzo è successo che sei tutti morti? Eh, avete ingaggiato... Non c'erano solo due ulti, mate. Eh, mi avevi ingaggiato troppo presto, io ero qua dietro Morgan quando avevi ingaggiato. Il fight sembrava fuoco, però fuoco. Ma dovevo essere più paziente. Mi sto aspettando, poco tre secondi di numero e c'era pure io. C'altro io stonavo tutti, erano tutti appiccicati. Per l'altro Jinx ha frittato tutto il tempo. Quindi di grave, Soch, un ultimo fight, focustiamo Jinx, finita. Vado top, Drago. Tra un minuto c'è. Eh, sì, attenzione perché possono fare pickpock adesso. Io ho il TP up, eh. Occhio ragazzi, please. Chiamiamo sto nuovo giro. Io non mi guardo, io non mi guardo. Io rubi. E a Momo non c'è. RISEBOT lo chiediamo? Il RISEBOT. Ho scritto gratuito, andiamo, andiamo, vai, balo. C'errebbe essere altre gente. Il ZAC non c'è. RISE ULTA, RISE ULTA, vi assicco, 100%. ZAC, 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 ZAC. Io qua vado, eh. Vado, 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 vado. Ci ho tipo di picchiare, ti picchiare. Sei da solo lì. Sei da solo contro 4. Ci siamo su RISE. C'era quel grab pazzesco. Vado. Poco stai Jinx. 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 Non ci arrivo. Jinx. Jinx. Ma stannata, va. Era buono, era buono. sapevo prendi zack, io ammazzuenni mid non finisci cosa, da botte nemmeno c'è una viva, vabbè prendiamo doppio inibiter elder sicuro al 1000x1000 ragazzi questo non lo facciamo dai, questo non lo facciamo mi sembra assurdo non fare il traga ah ma abbiamo le wapers ce la faccio da solo, non so tanto bene, veniamo, veniamo l'inibitato da prendi, si è perfetto cioè chiudere è l'impossibile, le wap non ce l'avevamo vabbè li abbiamo preso tutta oh man oddio ma dov'è che va bene? non ha lo smite ultimi jinx vabbè basta non è non è ma non è baron vision ma che baron vision andiamo a mid lane andiamo dritti con l'herald no? si si tiriamo dritti che buono è finito no c'è non la vuoi la mia calda lanterna non stavo guardando, se no c'ho di pazienza stavo cercando di considere la terza ho mai rifiutato questa la prendo cazzo, questa la prendo proprio volentieri occhio, 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 occhio occhio, 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 occhi, occhio ma occhio cosa, amica aspettiamo a moon aspettiamo a moon andare a mettere qui uno mi raggiunge una scimmia prima che vedo l'ulto minchia elder drake siamo delle pezzi mamma mia cosa ti dico quello sono gioco per il vivo il primo oggi insomma rispettava di scappa un bel noto riservo a giocare a più giocarla con forza per avanzo se vincesse non era qualora non c'è non c'è non c'è un certo lavoro moris e non è non come è mai bene Non so, fosse sempre vinto l'Era, così, urtando, dritti, bravo, li buffi, cazzo, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, no, ho sbagliato io, ho sbagliato io, bastava aspettare, no, io non gioco a Kalisto da cent'anni, no, ma l'Era è mio, ma comunque vincete per sbaglio, eh, con l'Era non pensavo fosse sempre vinto, l'Era non è vero, se facevi il contrario l'avevi, facevi Q, flash ult, era in, Mamma mia Comunque hai visto, dai, nonostante tutti gli eld, abbiamo rischiato il bag del fight Sì, ho fatto un bel lavoro in questo combattimento, devo dire la verità Mamma mia, che lavorone, socio Grazie, socio, meno male che hai visto te Bravo, 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 mamma mia Ok, ok Troppo forte il socio Non la piccarò mai più Kalisto Come no? È difficile Kalisto No, ma non la gioco tipo da cent'anni No, non dire così, veramente una Kalisto pulita, socio, mi è molto piaciuta No, mi piaceva veramente vomitare, era proprio lo spocco Vabbè, l'hai piccata, buona, almeno sai cosa non piccare la BCS, te ne frega No, ma non la gioco tipo da cent'anni